Ciao, sono Francesco, agente mobiliare del San Quineo di Sassuolo. Oggi vi proponiamo uno spedetto triocale completamente ristrutturato. Siamo in una palazzina in centro Sassuolo, con ascensore. L'appartamento è composto da soggiorno con cucina a vista. Balcone con i fissi PVC doppio vetro, zanzariere già installate. Camera da letto matrimoniale. Bagno con box d'occhi. Altra camera matrimoniale con bagno su. L'appartamento è dotato di aria condizionata scanalizzata con evitore pompa di calore. Completano l'immobile una cantina di proprietà, solario, garage e posto auto adunto con lo mio. Per ulteriori informazioni, chiamaci al numero qui sotto oppure passa a trovarci in agenzia. Siamo a Sassuolo, in piazza Marti di Plattigiani, Tantone. Grazie. Grazie.